Era l'inizio di novembre e alla centrale idroelettrica di Cardano veniva firmato in pompa magna un accordo definito storico tra Selle ed Enel, intesa attraverso la quale l'energia prodotta in provincia di Bolzano veniva consegnata nella sua totalità in mani altoatesine. L'intesa prevedeva in sintesi che Selle acquistasse da Enel il 40% di Seidro Power, operazione che avrebbe garantito alla società controllata dalla provincia di acquisire la piena titolarità di 11 centrali e di conseguenza un potere contrattuale decisamente più pesante nelle trattative per la possibile fusione con azienda energetica, un affare da circa 400 milioni di euro, del quale ora non vi è più alcuna certezza. La Selle ha infatti annunciato che per ora non se ne fa nulla o meglio non si riesce a far nulla. Qualcosa si è bloccato e deve sbloccarsi entro il 31 marzo, termine ultimo fissato per il perfezionamento del passaggio delle quote. E' bene ricordare che nel contratto firmato il 7 novembre si prevede che il perfezionamento dell'operazione sia sospensivamente condizionata all'ottenimento da parte di Selle dell'impegno delle banche a erogare il finanziamento per l'acquisto della suddetta partecipazione. E forse proprio le banche hanno frenato il tutto in attesa di conoscere il reale patrimonio e valore di Selle, perché come noto la provincia sta rivedendo tutto l'iter delle concessioni rilasciate alcuni anni fa in modo illegittimo e quindi in linea del tutto ipotetica Selle potrebbe essere privata di alcune sue centrali con effetti pesanti sul suo valore. C'è di più perché non si sa più nulla anche sulla possibile fusione con azienda energetica, elementi che stanno dunque complicando il perfezionamento di quella che era stata definita l'operazione più importante degli ultimi decenni e che potrebbe invece rivelarsi unicamente una gigantesca bolla di sapone.